Tutta questa edizione di Torino Spiritualità è impernata in realtà in un discorso sulla morte che è un tabù, ne parleremo anche stamattina e che effettivamente però proprio forse perché i discorsi sulla morte, sul lutto, ieri sera eravamo qua, non so se qualcuno c'era con Guido che sta ora nel pubblico e con Emilio, il cane, a parlare di suicidio un sabato sera alle 21 e la sala era piena, di nuovo è piena stamattina per parlare della questione del lutto e della morte degli animali domestici e trovo che questo sia un segnale estremamente importante del bisogno che c'è di trattare questo argomento che così di rado viene incluso nei discorsi e così spesso invece è oggetto di rimozione. Oggi io sono molto felice di essere qui per moderare questo incontro, per fare qualche domanda e stimolare il dialogo fra Barbara Alessio, la mia sinistra, che è psicologa clinica e psicoterapeuta, oltre che psicodiagnostia e ha un master in bioetica, un tratto che mi sembra abbastanza importante rispetto anche al tema che ha trattato, insieme a Franco Fassola, alla mia destra, che è un medico veterinario ma è anche counselor, ha un master in counseling e è specialista comportamentalista e quindi con loro due dialogheremo intorno al libro che hanno scritto a quattro mani, che ho in mano per l'appunto, che si intitola L'ultima carezza, le emozioni degli animali e degli umani nell'eutanasia e nel lutto. Il titolo e il sottotitolo dicono già moltissimo di quello che è questo libro, che è il libro di due studiosi che tratta appunto un tema su cui c'è un silenzio vastissimo. Allora io appunto su questo tema della morte degli animali e dell'ulto degli animali avevo letto qualche anno fa, l'unico libro che avessi letto su questo tema, perché non se ne trovano molti, non è un libro specialistico, in quel caso si tratta di un saggio memoir, infatti volevo chiedervi se per caso lo conoscesse, se qualcuno di voi lo conoscesse, che è stato pubblicato da Bollati Boringhieri diversi anni fa e ora infatti è fuori catalogo, infatti io l'ho letto solo grazie al mio marito bibliofilo che me l'ha regalato, che è un libro che si intitola Topsy, storia di un amore, ed è stato scritto, anzi le ragioni di un amore, ed è stato scritto da Marie Bonaparte, la psicanalista, paziente, amica e allieva di Freud, che aveva una cagnolina di nome Topsy, una ciao ciao, che era peraltro imparentata con la cagnolina di Freud, Iofi, che è quella cagnolina che come è noto assisteva alle sedute. e Marie Bonaparte ha scritto questo testo che poi a Freud era piaciuto moltissimo, lei gliel'aveva inviato come manoscritto e lui addirittura insieme alla figlia si era messo a tradurlo perché lei l'aveva scritto in francese e raccontava questo breve saggio della malattia di questa cagnolina, che era la cagnolina appunto di Marie Bonaparte che a un certo punto inizia a soffrire di un cancro alla gola e lei la fa curare con delle radiazioni, siamo nel 38, Freud già è malato fra l'altro, quindi a sua volta lui nel momento in cui inizia a leggere questo testo probabilmente sente che gli parla anche di una condizione che lo riguarda e la stessa Marie Bonaparte scrive questo testo raccontando tanto del rapporto così speciale fra lei e l'animale e fra lei e l'animale nel momento in cui l'animale soffre, poi questa cagnolina guarisce in realtà, quindi c'è anche tutto questo percorso appunto di malattia e le scelte che si pongono a Marie Bonaparte rispetto al fatto di curarla, come curarla, cosa fare di questa malattia e naturalmente però questo scoperchio è una serie di riflessioni che hanno a che fare con lei stessa, che vanno oltre il rapporto con l'animale e riguardano il proprio rapporto con la vita, quindi diciamo un magma emotivo incandescente, però che riguarda tutti noi, è il modo in cui ci poniamo rispetto alla nostra mortalità, rispetto alla nostra vulnerabilità. Ecco, però appunto adesso questa introduzione era solo per dirvi che mi era capitato solo di rado appunto di veder trattato in un libro questo tema che però appunto riguarda tantissime persone, voi lo fate notare fin da subito all'inizio del libro, nell'introduzione, il fatto che effettivamente essendo la vita degli animali che per noi sono i pet, come li chiamate nel libro, quindi non soltanto i cani ovviamente ma anche tutti quelli che sono gli animali domestici con cui si crea un forte legame affettivo, essendo la loro vita biologica più breve della vita di un essere umano, è fatale che chi ama gli animali, chi ama vivere con un animale, si trovi a dover fronteggiare anche più di una volta nel corso della vita un lutto che non ha un nome preciso e che non ha soprattutto nella nostra società un riconoscimento preciso, mi sembra che questo sia il punto di partenza del testo e su questo volevo lanciarvi la prima domanda. se potete raccontarci un po' come il tabù della morte influenza il rapporto con la morte degli animali domestici, se pensate che appunto sia un tabù che in un luogo dell'esperienza umana che di per sé ha pochi rituali stabiliti perché appunto è solo recente la possibilità anche di cremare per esempio l'animale domestico per tenerlo vicino, insomma volevo chiedervi appunto come secondo me interagisce il tabù della morte che nella nostra società è così diffuso, che tende a cacciarla in un angolo e che è però relativamente recente perché fino a non molti anni fa l'esperienza della morte, penso a cose tremende come la mortalità infantile molto più alta, erano esperienze molto più comuni e allo stesso tempo negli ultimi diciamo 70 anni, 50 anni, 70 anni, questo tipo di esperienza si è allontanato e l'animale domestico è diventato molto più importante nella vita quotidiana di molte persone perché parliamo dell'Italia ma in generale forse del nostro mondo, insomma molte cose sono cambiate e l'animale non è più qualcuno con cui diciamo un aiuto nel lavoro dei campi ma è qualcuno che condivide la vita della famiglia, ecco volevo partire con voi a riflettere su questo tema del tabù della morte in questa relazione, non so chi vuole cominciare forse Barbara. Grazie, buongiorno a tutti, intanto grazie di essere venuti, cercherò di stemperare la mia emozione tenendo presente che siamo tutti qui credo collegati da un interesse che non sarà soltanto di tipo razionale ma credo che riguardi proprio il nostro cuore, il nostro spirito e quindi cercherò di ricordarmelo per essere più tranquilla nel parlarvi. Vorrei cominciare un po' da una premessa che ci permette di contestualizzare quello che tu stai dicendo e quindi di capire qual è la difficoltà speciale che viviamo nel momento in cui perdiamo a tutti gli effetti un membro della nostra famiglia che però non è bipede ecco ma è a quattro zampe, a volte bipede perché vola. I riti funebri hanno caratterizzato tutta l'evoluzione dell'essere umano e se noi ci pensiamo bene praticamente le prime tracce che noi abbiamo della cultura umana, stiamo parlando della preistoria, stiamo parlando dell'archeologia, sono tombe. Il testo scritto più antico che noi possediamo, stiamo parlando del 2300 avanti Cristo, è ad opera di una poetessa, sacerdotessa sumera, Enedwanna, che scrive la discesa agli inferi della Dea Inanna, che rimane agli inferi tre giorni e poi risorge e quindi a tutti gli effetti il più antico testo scritto che possediamo parla di un rito funebre che all'epoca era estremamente importante, era oggetto di un rito che fu ritualizzato per migliaia di anni e che aveva un'importanza fondamentale non solo per la vita dell'individuo, quindi non parlava solo di quello che succede all'anima umana quando muore, ma era riferito a tutto il ciclo vitale e alle stagioni e quindi doveva rinforzare la speranza che dopo l'inverno, dopo il tempo secco che faceva morire tutto, sarebbe tornata una nuova stagione di abbondanza per la comunità. Ecco, perché quindi tanti riti funebri? Perché evidentemente la morte è qualcosa che per la psiche è indigesta, è difficile da gestire. La morte ha un forte potere disorganizzante per la psiche. Freud disse che l'angoscia di morte era la madre di tutte le angosce. La morte disorganizzante non solo per chi rimane, quindi per i familiari che vedono interrotta la loro quotidianità, perché si spezza proprio il ritmo della nostra vita, vanno in pezzi le giornate così come le conosciamo, spesso va in pezzi anche il senso della nostra vita, è disorganizzante anche per la comunità all'interno della quale quella persona aveva un ruolo ed una funzione. È un momento quindi che è al di fuori della logica comune, che sovverte le regole e il dispositivo psichico che la mente ha forgiato per attraversare i grossi momenti di disgregazione a causa delle forti emozioni, è sempre stato il rito. E quindi i riti funebri, proprio perché la morte appunto è così potenzialmente disgregante, non solo dei rapporti ma appunto del nostro funzionamento mentale, il rito funebre è sempre stato qualcosa a cui gli esseri umani hanno dedicato tantissima attenzione, tantissima devozione e nel momento e nei modi del commiato. Pensiamo addirittura alla civiltà egizia, alla ricchezza, alla complessità del rito funebre, era una civiltà che era completamente costruita intorno all'idea della morte e soprattutto all'idea di accompagnare poi il trapassato. Ecco, il rito quindi è un dispositivo che mette ordine, rimette ordine in un momento in cui noi siamo troppo presi dal dolore, non riusciamo a capire quello che dobbiamo fare e invece il rito dice quali sono i modi giusti, i comportamenti giusti, le cose giuste da fare, che dobbiamo fare ma anche i comportamenti che gli altri devono e possono fare per consolarci e per starci vicino. Quindi il rito ha una dimensione di riconnessione non solo per noi ma anche di ricostruzione di un nuovo ordine all'interno della società. Il rito ha sempre una dimensione collettiva e c'è bisogno di questa dimensione collettiva perché quando impattiamo la morte si disgrega il velo che divide il mondo dei vivi dal mondo dei morti e tutti i riti funebri hanno tutta una serie di importanti funzioni di mortalazione e quindi riguardano come stare intorno alla salma e al defunto, come preparare il defunto ma anche di immortalazione, quindi come ricostruire, rigenerare il rapporto con quella persona dopo e oltre la morte, quindi evidentemente in un altro modo. Il rito era molto importante perché celebrava celebrava non solo la persona che era appena scomparsa, quindi si occupava del passato perché celebrava la vita della persona e della comunità, si occupava del presente quindi di quello che si stava vivendo ma si occupava anche del futuro, cioè permetteva la gestione del senso di continuità della vita senza colpa. Possiamo attraverso le cure che noi diamo alla persona che se n'è andata sentire che stiamo facendo qualcosa di buono, ricostruiamo un senso collettivo e questo mette a tacere senso di colpa perché noi siamo sopravvissuti. C'erano tante funzioni, una delle quali era sicuramente il fare delle cose per accompagnare l'anima perché facesse un buon viaggio, pensiamo anche nella religione cattolica alle messe di trigesima e questo aiutava chi rimaneva perché non si sentiva impotente, perché l'impotenza è un brutto sentimento che si prova di fronte alla morte, non possiamo più fare niente, ma se invece nel rito funebre sappiamo che dobbiamo fare, possiamo fare tante cose ancora per chi è morto, questo ci mette in una posizione di attività e ci aiuta molto. Inoltre un'altra funzione molto importante era quella proprio perché lo stiamo salutando, lo stiamo aiutando, sapere che si troverà bene nell'aldilà e quindi non tornerà a disturbare la vita dei vivi e questa era una funzione apotropaica. ecco quindi tutte queste funzioni molto importanti dobbiamo quindi tenere conto che la ritualità funebre punteggiava la vita dell'anno di tutta la comunità. Oggi noi siamo un po' abituati al funerale che risolve tutto in un momento che è molto contratto, è molto limitato e spesso è anche solitario, cioè non c'è più la dimensione collettiva delle persone che si stringono intorno, della condivisione non solo dei simboli ma del senso. Invece questa dimensione, la morte era frequente, si contattava di frequente, ma il rito era frequente, faceva sì che la vita fosse collegata alla morte o meglio, la morte non era staccata dalla vita, non era in contrapposizione della vita, qualcosa che non riguardava la vita, faceva parte della vita. Per noi è molto difficile oggi sentire questo e è stata una lunga premessa ma adesso spero di far risaltare quanto è importante quando parliamo del legame con gli animali. Questo noi non lo viviamo più, la morte oggi è oscena, cosa vuol dire? È fuori dalla scena psichica, è fuori dal campo di coscienza, è l'ultimo tabù, la neghiamo, non vogliamo vederla, dico sempre nelle presentazioni che il primo editore a cui abbiamo presentato il nostro lavoro dopo mesi di contrattazione alla firma del contratto ci disse no, non pubblico il libro perché la morte non vende, che è una cosa orribile, non tanto per noi che alla fine siamo andati avanti, ma è il significato, terribile. Quindi la morte non la contattiamo più e tra l'altro spesso, mi è capitato anche nei workshop proprio a Torino Spiritualità, spesso nella vita odierna la prima volta che contattiamo la morte nella nostra vita è attraverso la morte di un nostro animale. Per questo diciamo anche che il nostro lavoro è un testo di Death Education. Abbiamo ancora i riti funebri non più complessi e quindi non più così utili alla nostra mente e all'elaborazione del lutto come un tempo, ma chi vive la morte dell'animale certamente patisce questa cultura algofobica che ha paura del dolore, che cerca di negarlo, di allontanarlo, ha paura della tristezza, ha paura della disgregazione, dello strazio della morte, ma patisce tutta una serie di altre situazioni particolari. La prima delle quali riguarda il fatto che l'animale purtroppo è ancora considerato un essere di serie B, inferiore agli esseri umani, quindi portatore di minore dignità, di minor valore. La sua vita vale meno. Nella nostra cultura è ancora così, poi magari avremo modo di vedere però, perché la scienza oggi dice altre cose, ma il pregiudizio è ancora forte. Quindi chi ha un animale patisce il pregiudizio di vivere un amore di serie B, ma era solo un cane, ci viene detto, e quindi si trova ancora oggi in una condizione che nell'89 un esperto, mio collega esperto di lutti, definiva lutto negato, cioè la nostra società ci priva addirittura della possibilità di esprimere, di vivere il lutto, perché il lutto è la dimensione manifesta del dolore della perdita, mentre il cordoglio è la dimensione interna. Ecco, la nostra società non dà importanza a questo momento, non esiste nemmeno una ritualità a cui le persone possano ricorrere, quindi non c'è una condivisione, quantomeno nella nostra società, perché nei nostri studi, ecco, poi abbiamo visto che all'essero, soprattutto nelle culture di origine anglosassone, è molto diverso, per fortuna, e qui appunto comincia ad essere attiva invece tutta una serie di movimenti che aiutano, però non c'è un rito e quindi noi nel nostro libro, tra le tante cose nel nostro lavoro, abbiamo anche cercato di intanto validare le emozioni, lo strazio di chi perde, nel lutto è tutto valido, le dissociazioni, le allucinazioni, la depressione, persino il pensiero del suicidio. Quindi validare lo stare male, ma anche validare il bisogno e l'utilità di fare un rito funebre. Grazie Barbara, non so se Franco volevi aggiungere, perché una delle cose belle di questo libro e anche di questo incontro è che i vostri saperi sono complementari, ma avete anche delle prospettive diverse, con un'attenzione Barbara più alla psicoterapia, alla psicanalisi e anche di formazione veterinario. Sì, io adesso vi do il punto di vista forse un pochettino più pratico legato anche all'esperienza diretta, sia per quanto riguarda il lutto e purtroppo anche per quanto riguarda una pratica che noi veterinari siamo un po' tenuti a fare, che è quello dell'eutanasia, che è un po' considerato un atto terapeutico, ma sicuramente per professionisti che hanno studiato per curare e per aiutare a star bene gli animali, sia dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista proprio delle emozioni, è sempre un po' un momento molto molto difficile. Ecco, io sono circa 35 anni che faccio questa professione e ho visto un po' un'evoluzione anche di quello che è l'approccio delle persone all'animale. L'animale è considerato per quanto riguarda la legge ancora una cosa, ma in realtà oramai è diventato un membro della famiglia e non solamente il cane e il gatto, anche degli altri animali che dal coniglio, il furetto, le tartarughe, ma addirittura c'era qualche settimana fa sull'inserto del Corriere della Sera la lettura che parlava di, con anni mi pare, il fubettista che aveva una pecora in casa e che aveva appunto questo legame molto forte con questo animale che oltretutto gli ha ispirato anche dei suoi racconti. Per cui nell'ambito del rapporto tante cose sono cambiate e tante cose sono state riscoperte, perché io vengo da un mondo, ho fatto anche il veterinario sugli animali da reddito e quindi anche una cultura più contadina dove comunque questo rito del lutto e anche il rito della morte c'era ancora, proprio quello che nell'ottocento era Lars Moriendi, nel mondo contadino senza tutti questi aspetti più culturali c'era perché l'animale veniva rispettato, avevano proprio il posto dove gli animali venivano sepolti e quindi veniva anche riconosciuto un ruolo all'interno del gruppo familiare e un ruolo anche dopo la morte. Tutto questo adesso noi lo riscopriamo un po' perché vivendo in un ambiente più urbano è più difficile anche avere la possibilità di mantenere un contatto anche fisico con quello che è l'animale che non c'è più, ma è di questi giorni la proposta di legge in regione Piemonte per poter tumulare dei ceneri degli animali con le persone che hanno vissuto con loro. Quindi c'è proprio un'evoluzione molto importante, non solo più la cremazione ma anche la possibilità di inumare queste spoglie in un luogo che è riconosciuto come un luogo sacro della famiglia e quindi un piccolo tempio della famiglia dove c'è anche questo animale. Diciamo che la difficoltà nella gestione della morte e anche poi del lutto è un po' legata anche all'immagine che adesso abbiamo degli animali che fanno parte della famiglia ma soprattutto che grazie ai progressi anche della scienza e al modo con cui vivono con noi, la protezione che noi diamo agli animali hanno una vita molto molto lunga. Io mi ricordo che quando ho iniziato a fare la professione un cane di dieci anni era un cane anziano, adesso un cane di dieci anni tutto sommato ha almeno ancora cinque o sei anni se non dieci davanti nell'immaginario. Purtroppo non è sempre così perché purtroppo ci sono degli eventi traumatici che interrompono questo rapporto e per quanto la scienza possa molto non può tutto e di conseguenza la morte arriva anche per loro ma arriva così a tardi che quasi se li vediamo come se fossero immortali e se pensiamo che il legame di attaccamento che si crea con gli animali è un legame simile a quello che si crea con i bambini descritto anche da Bolbi e poi anche ripreso in tanti studi anche recenti anche dell'Università di Milano, la Previti che ha dimostrato che c'è questo legame molto forte il distacco diventa ancora più difficile e se non siamo esercitati proprio al distacco sicuramente la morte dell'animale diventa una cosa traumatica che come giustamente ha detto Barbara evoca anche altri lutti e altri distacchi ma che è di per sé molto molto difficile da approcciare e anche da accettare e il lutto è un elemento fondamentale per andare avanti io ho esperienze di persone che riprendono l'animale della stessa razza e addirittura ridanno lo stesso nome per perpetrare non tanto la presenza dello stesso animale quanto dell'animale all'interno della famiglia per cui questo può essere non sta a me stabilirlo funzionale o disfunzionale dal punto di vista psicologico ma sta di fatto che ci sono queste situazioni quindi viviamo in un momento molto di transizione nel rapporto con gli animali è un momento molto complesso sicuramente la morte come viene negata un po' per quanto riguarda la relazione all'interno tra le persone in parte viene negata anche nella relazione con gli animali come veterinari abbiamo una grossa responsabilità anche in questo perché naturalmente essendo comunque professionisti essendo comunque anche scienziati tendiamo a sempre a curare il più possibile però quello che c'è diciamo tra virgolette di bello in tutto questo è che mentre una volta il ricorso all'eutanasia era una cosa così fatta molto molto alla leggera adesso sia per quanto riguarda noi professionisti ma anche proprio per le persone diventa una cosa molto difficile molto di più le persone che vivono con gli animali chiedono di non ricorrere all'eutanasia meno che proprio non ci sia una sofferenza psicofisica insopportabile ma di accompagnare l'animale verso una morte naturale e secondo me questo è un bel passo nel riconoscere il valore della morte tenendo conto che è il valore di questo legame di questo rapporto finale anche in quello che poi segue perché proprio questi momenti gli ultimi momenti anche che possono essere un mese sei mesi una settimana sono è vero molto dolorosi ma sono anche momenti in cui questo legame si esercita a essere mantenuto nel ricordo successivamente e questo a volte non lo facciamo con i nostri cari perché chi ha avuto purtroppo io ho avuto questa esperienza dei genitori magari nell'RSA durante la pandemia non ha avuto questa possibilità e quindi è una cosa molto molto bella a mio avviso grazie grazie Franco grazie Barbara per le vostre risposte che sono ricchissime di spunti stavo pensando prima mentre parlava Barbara che io sono milanese non so se anche a Torino si usi questa espressione molto brutale ma a Milano per esempio quando uno ha una faccia un po' triste diciamo ma cosa è successo ti è morto il gatto e viene usato come appunto un modo quasi umoristico per prendere in giro un malumore una paturnia quindi assimilando questa esperienza che però è un'esperienza di lutto a tutti gli effetti come ci hai spiegato benissimo a qualcosa che non dovrebbe turbare l'umore questo è un punto e un altro punto che trovo estremamente importante è che in modi diversi è venuto fuori dalle vostre relazioni e anche nel libro viene fuori in una maniera molto che mi ha colpito moltissimo e che ho trovato anche appunto molto molto ben gestita questo libro è pienissimo di spunti interessanti di riflessione e anche il merito di essere molto pratico di dare dei consigli molto molto pratici senza porsi in una posizione giudicante fra l'altro questo l'ho apprezzato tantissimo il tema proprio della relazione che noi abbiamo con gli animali perché io per esempio quando chiamo il veterinario di Emilio che è il mio cane e qua si potrebbe aprire tutto un nuovo capitolo sui nomi degli animali appunto adesso Franco accennava questa cosa dei proprietari di animali che poi tendono magari a riprendere un altro animale a creare un po' un effetto Rebecca la prima moglie con l'animale quindi riprendere un animale simile e dargli lo stesso nome mi ha colpito tantissimo questa cosa perché in effetti capisco la logica che c'è dietro però appunto anche lì la scelta del nome di un animale prima in quei pochi minuti che perché noi ci siamo riusciti a perdere dentro il circolo non si sa bene come però prima di perderci avevamo avuto l'occasione di scambiare giusto due chiacchiere e subito era venuto fuori un tema che a me affascina tantissimo la scelta del nome dell'animale che ovviamente imporre il nome a qualcosa è un atto a qualcuno è un atto di potere in un certo senso lo è quando si ha un bambino nel senso che gli si imprime già non so un desiderio quantomeno di quello che potrà diventare della personalità che potrà avere di quello che associamo quel nome con un animale poi la scelta è ancora più vasta perché si possono dare i nomi io conosco cani che si chiamano matita o macchia che peraltro sono dei bei nomi però appunto a un bambino magari questi nomi non si possono dare però anche lì quindi questa vastità anche della scelta ci offre una gamma di possibilità di proiezione naturalmente come in ogni rapporto però al di là di questa questione dei nomi che magari appunto non so se in qualche modo nelle vostre risposte entrerà la cosa che mi colpisce è che io per esempio quando chiamo il veterinario di Emilio nome scelto anche lì dopo una lunga serie di dibattiti non so mai come presentarmi perché dire sono Ilaria la padrona di Emilio mi sembra veramente non lo so mettere il cane in una posizione subalterna io non mi sento affatto padrona di questo cane anche se appunto tradizionalmente così chiamiamo le persone che hanno un cane il proprietario il padrone del cane dire sono Ilaria la mamma di Emilio mi fa venire i brividi perché non è mio figlio assolutamente quindi mi fa effetto anche quando questa relazione biologica viene biologica o affettiva però che appartiene in realtà a un altro genere di relazione viene sovrapposta al rapporto col cane quindi alla fine io mi presento dicendo sono Ilaria di Emilio così come se fosse un patronimico non so no perché veramente e questo però ogni volta nel mio imbarazzo secondo me mette in scena in realtà una complessità di rapporto che voi nel vostro libro con una grandissima chiarezza quindi rendendo molto semplici anche degli studi molto complessi mettete in luce cioè il fatto che in realtà negli ultimi anni vabbè a partire dall'opera di Conrad Lawrence ma in realtà diciamo il fatto che gli animali abbiano emozioni appunto lo sottolineate anche voi lo sapeva anche Darwin che fece uno studio bellissimo fra l'altro sull'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali oggi noi possiamo dire negli altri animali perché proprio il fatto che noi abbiamo emozioni è un segno della nostra animalità anche no quindi voi appunto partite da questo presupposto del fatto che appunto sia ormai impossibile credere che gli animali non abbiano una mente no che non abbiano una vita interiore in un certo senso e lo riflettete sulla sulla relazione che si crea e che si crea all'interno spesso di una famiglia perché poi appunto gli animali domestici come dice questa definizione vivono appunto in una situazione domestica di casa di famiglia e quindi si creano delle relazioni per esempio anche con i bambini di casa come diceva prima Barbara tornando proprio al tema di oggi della morte del lutto degli animali spesso i bambini conoscono la morte per la prima volta attraverso la morte degli animali e voi date dei consigli anche molto circostanziati su come parlare di questa cosa su come evitare degli eufemismi che tendono poi a tradire quella relazione cioè per esempio dire a un bambino che il cane è partito per un lungo viaggio e non tornerà inizialmente sembra allontanare il problema di dirgli che il cane è morto che non c'è più ma allo stesso tempo gli suggerisce che il cane se ne sia andato per i fatti suoi dimenticandolo quindi rinnegando la relazione amorosa ecco quindi volevo chiedervi un po' appunto come nella vostra esperienza le relazioni fra animali e umani si pongono proprio dal punto di vista affettivo emotivo e magari se mi potete dire anche come mi posso presentare al veterinario quando telefono come presentarti ma allora il problema di come presentarsi è una cosa è complessissima io faccio relazioni anche per i miei colleghi e mi occupo di medicina comportamentale quindi noi abbiamo molto presente l'attenzione sull'utilizzo delle parole perché la nostra attività e anche le visite comportamentali è basata sulla relazione sulla comunicazione quindi dobbiamo fare molta attenzione su quello per cui faccio sempre dei giri di parole le persone come non so se avete anche notato le persone che vivono con l'animale tante volte la differenza animale umano animale non umano e così via per cui diventa molto difficile sicuramente era molto più semplice in passato quando si parlava di proprietario e di padrone perché era immediato ed era facilmente comprensibile e forse sicuramente padrone se lo intendessimo nell'eccezione etimologica quindi di padre di famiglia che è quello che si occupa di tutta la famiglia e quindi che se ne prende cura sarebbe il termine forse più corretto però nella lingua corrente ha assunto un'eccezione molto diversa quindi è anche difficile da utilizzare forse l'unica espressione che ha una certa correttezza e che dà subito l'idea può essere sono Ilaria la convivente di Emilio e poi mio marito però dice ma conviventi possono essere diversi ecco non è necessariamente anche perché diciamo che è l'altra versione di convivente che ha assunto un restringimento nel suo significato generale per cui diciamo che poi forse la difficoltà sta nel fatto che tu hai scelto un nome di persona per dare sicuramente non me lo sono fatta dire da più sempre forse la coinquilina forse la coinquilina ecco diciamo che la difficoltà sta in questo poi sicuramente la difficoltà sta nella comunicazione telefonica ma nella comunicazione diretta anche se uno dice padrone e come lo dice cambia moltissimo sull'attribuzione dei nomi beh c'è un mio collega che se ne è uscito vent'anni fa con un'espressione molto bella dicendo che il nome che diamo al nostro animale rappresenta quello che è la rappresentazione che noi abbiamo di lui e quindi sicuramente ha un valore un significato molto molto forte una volta gli animali si chiamavano tutti Fido Bobi e così via però erano nomi oramai diventati standard adesso per fortuna c'è una notevole variabilità in questo e che va molto a sottolineare qual è il legame che si instaura con l'animale gli studi hanno dimostrato anche gli studi sul l'antropoetologia hanno dimostrato che l'evoluzione dell'uomo e del cane in particolare che è l'animale domestico proprio per eccellenza è più studiato è una co-evoluzione secondo alcuni studiosi se non ci fosse stato il cane la nostra evoluzione dal punto di vista empatica sarebbe stato molto molto più lenta e molto più difficoltosa e teniamo conto che noi parliamo anche di situazioni non semplici che può essere quello di capire cosa ci dice cosa ci chiede il cane quando ci guarda e qui potremmo aprire un enorme parentesi relativa al fatto che noi non siamo più abituati a rispondere al cane o a rispondere al gatto gli animali ci guardano e ci interrogano noi li ignoriamo loro fanno quello che vogliono e poi di conseguenza noi ci lamentiamo che non fanno quello che vogliamo noi ma noi abbiamo detto quello che vogliamo che loro facesse quindi rientra tutto questo in un rapporto legato all'empatia che per l'uomo preistorico era fondamentale per riconoscere il pericolo dei predatori perché teniamo conto che il cane è frutto di evoluzione partendo da un predatore che è il lupo quindi riconoscere e riconoscere quali erano le intenzioni del lupo nel momento in cui lo incontravi era fondamentale per la sopravvivenza come anche per tutti gli altri animali quindi questo rapporto questo fondamentale che si è creato e che si è continuato e che è continuato ancora oggi è determinante nel legame che è diventato ancora più stretto perché oramai gli animali tante volte hanno delle funzioni che prevalicano quello che è la definizione di domestico quindi che fa parte della casa o di compagnia sono qualche cosa di molto più molto più forte e molto più importante diciamo che su questo dovremmo ragionare per quanto riguarda anche il trovare l'espressione del nostro rapporto con loro perché da una parte li carichiamo anche di enormi responsabilità e dall'altra invece quando la cosa c'è meno utile li deresponsabilizziamo molto diciamo che in linea di massima però questo rapporto così forte così stretto e così intenso è così pieno di emozioni perché è questo loro provano emozioni noi proviamo emozioni e soprattutto dovrebbe portarci ad andare un pochettino oltre perché noi lo mettiamo sempre dal punto di vista quelle che sono le mie emozioni quelle che sono le sue emozioni e c'è una dicotomia tra le due cose in realtà dovremmo cercare diffonderli e tener conto che nel rapporto le emozioni nostre devono essere emozioni piacevoli quindi dobbiamo provare piacere nel rapporto con l'animale e dovremmo avere il rispetto affinché loro abbiano delle emozioni piacevoli nel nostro rapporto ma viceversa anche dobbiamo tener conto che anche loro devono avere il rispetto per quanto riguarda le nostre emozioni forse riequilibrando la relazione anche il momento del distacco diventa diciamo più in un ordine naturale che era un po' quello che comunque in passato c'è stato per quanto riguarda il discorso dei bambini io posso darvi solo quello che è la mia esperienza che in parte abbiamo riportato anche nel libro secondo me i bambini pur avendo forse il primo contatto con la morte attraverso l'animale hanno una visione che è più semplice l'animale c'è o l'animale non c'è quando c'è lo amo tanto quando non c'è me lo ricordo mi ricordo una cosa molto bella di un cane a cui ho dovuto fare l'eutanasia è un cane che aveva una malattia molto grave però era ancora integro nel suo aspetto fisico e quindi è stata una cosa molto dura c'erano anche dei bambini non presenti a cui poi ho dato il libro loro hanno subito guardato il giorno stesso la parte dedicata ai bambini e sono venuti poi il giorno dopo dicendo abbiamo cominciato a fare l'album delle foto del ricordo con il bambino e lui si è entusiasmato molto e ha ricordato tanti eventi tanti momenti che ha trascorso con il cane senza commuoversi particolarmente ma ricordandoli come momenti vissuti e che stava vivendo quindi diciamo che tendenzialmente forse con i bambini è molto più facile che con noi adulti come adesso comincia anche un pochettino io faccio anche delle visite con delle persone che hanno difficoltà anche a superare questo momento di lutto e le condivido con Barbara perché ci sono i due aspetti anche legati alla mancanza dell'animale ma proprio a quello che questo evoca dal punto di vista psicologico e introduco un altro argomento ricordiamoci degli animali che restano perché anche loro sentono il lutto e la mancanza sto seguendo un cane che a distanza di un anno un anno e mezzo sta manifestando dei sintomi per cui non è così immediato e anche non è affatto vero che per loro manca un compagno finito lì ne troviamo un altro e quindi gli procuriamo un altro animale sì può andare bene perché sicuramente la compagnia però non sostituisce quello che c'è e quindi bisogna proprio aiutarli addirittura anche tante volte li faccio assistere al momento se c'è l'eutanasia oppure suggerisco di lasciarli rimanere a contatto con un animale che sta morendo perché si rendano conto che questo è finito ed è importante questo anche per gli animali che restano Barbara? sì volevo dire una cosa rispetto al legame partendo dal fatto che quando invio magari delle mail per insomma diciamo sponsorizzare il nostro libro e quindi devo spiegare in poche parole di cosa parliamo la prima cosa che dico è questa sì è un libro che parla della morte parla dell'eutanasia ma in realtà parla del legame ecco e la l'edizione di quest'anno di Torino spiritualità non è la morte è agli assenti cioè fa riferimento proprio a un legame e questo fa la differenza e noi questo legame abbiamo voluto indagarlo studiarlo e poi presentarlo non da un punto di vista superficiale ma nemmeno da un punto di vista sentimentale cioè proprio tenendoci molto distanti dal sentimentalismo perché perché il sentimentalismo ha dimensione egoica e cosa io sento ecco che dice delle cose va bene ma non integra l'altro e allora noi abbiamo usato che è quello che fa la scienza a partire da Jane Goddard abbiamo usato l'empatia l'empatia invece è appunto la relazione è il legame ecco il rapporto con gli animali era relegato proprio nella subcultura degli amanti degli animali o degli animalisti e invece lì anche se giustamente tu ricordavi già nel 1872 Darwin dice attenzione non siamo separati c'è una continuità che è una continuità data dalle strutture del cervello e dal funzionamento del cervello questa lezione viene dimenticata negli anni 70 grazie alle neuroscienze e all'etologia cognitiva Lorenz gli Arlo e fino a Berkhoff che è attuale ecco ci hanno finalmente dimostrato la complessità della psiche in termini di intelligenza ma anche in termini di intelligenza emotiva noi sappiamo che gli animali hanno autoconsapevolezza non è vero che hanno solo un repertorio istintuale fisso ma sono intenzionali hanno un repertorio molto articolato di emozioni sappiamo che provano le emozioni primarie e molte di quelle secondarie Berkhoff oggi sta studiando il senso morale e il senso religioso ecco quindi noi dobbiamo però ecco al di fuori anche comunque di questa dimensione gli studiosi ci dicono che dietro qualunque acquisizione culturale umana sta il rapporto con gli animali e con la natura e da un punto di vista psichico gli animali hanno rappresentato il più vasto sistema simbolico della coscienza e dell'inconscio ricorda Jung quindi la mente così come noi l'abbiamo si è strutturata in profonda relazione ecco noi non siamo quelli così i migliori e quelli staccati ma viviamo una continuità ecco che sarebbe bene ricordare ma non solo in termini come dire di informazione ma anche in termini di rapporto con loro chiaramente questo dà una dignità quindi sicuramente a quello che proviamo nei loro confronti noi da un punto di vista scientifico abbiamo voluto rispondere alla domanda ma è vero che gli animali ci amano perché quando tu lo dici gli interlocutori dicono ma no perché gli dai da mangiare l'animale ti è affezionato allora cosa dice la scienza oggi che noi li amiamo siamo sicuri non dobbiamo nessuno ce lo deve dimostrare ecco ma loro ci amano ecco noi abbiamo voluto dimostrare cioè dimostrare portare le evidenze scientifiche a questa a questa domanda e ci teniamo molto ecco a questo ecco rispetto ai bambini visto che tu chiedevi beh sì i bambini sono parte integrante della famiglia e gli animali dicono gli studi sono adottati quindi l'adozione è un'istituzione giuridica che fa entrare a tutti gli effetti in famiglia qualcuno con cui non c'è un legame di sangue di parentela sono adottati fanno parte della famiglia le persone li vivono come familiari gli studi dicono che a volte si soffre di più per la perdita di un animale che di un familiare quindi il concetto di queerness direi che possiamo assolutamente usarlo e quindi i bambini fanno parte di questo sistema tant'è vero che noi Franco e Dio quando parliamo anche in aula ecco quando facciamo formazione facciamo sempre riferimento al gruppo famiglia c'è un gruppo famiglia fatto di diversi individui che intessono una complessa rete di relazioni e scambiano affetti e significati il bambino capisce cosa sta capitando ed è bene che venga integrato perché possa salutare perché possa avere un adulto che lo contiene quindi lo contiene da un punto di vista cognitivo che risponde alle sue domande che non sfugge davanti alla paura ed è questo una bella esperienza perché il bambino lì può capire veramente che cos'è l'amore capisce che l'amore come dire ha una dignità ma anche una responsabilità noi amiamo il nostro animale fino alla fine l'amore ha dentro di sé una responsabilità e quindi io rispondo perché responsabilità vuol dire quello rispondo a questo rapporto fino alla fine e c'è senso e c'è amore e c'è bellezza fino alla fine e poi sì possiamo aiutarli poi con tutta una serie di riti che possano a seconda dell'età permettere loro di capire che cosa sta succedendo dando l'indicazione però fondamentale ovvero l'animale non tornerà più ma nessuno di noi ha colpa ecco non è un tradimento da parte dell'animale non è che abbiamo sbagliato qualcosa noi l'adolto la grandissima analista François Adolto diceva si è occupata molto di morte rispondiamo perché si muore perché ad un certo punto la vita finisce grazie Barbara grazie io devo dirvi che sono la persona più inadatta a chiudere le discussioni perché tendo a ritardare tutto credo che a un certo punto dovremmo andarcene da questa sala perché ci saranno altri incontri e mi piacerebbe lasciare anche un piccolo spazio per le domande quindi sarò molto telegrafica e vi farò un'ultima domanda che si rallaccia a questo tema che stava affrontando Barbara così con tanta delicatezza che però mi sembra molto importante il tema della colpa del senso di responsabilità e di colpa che si sente appunto nei confronti degli animali io ho vissuto questa cosa prima di Emilio ho avuto un gatto per tanti anni che vabbè ho vissuto con i miei genitori perché me l'aveva regalato il mio fidanzato del liceo poi io sono andata a fare l'università in collegio non potevo portarlo insomma qualche anno fa 4-5 anni fa l'abbiamo accompagnato all'eutanasia perché stava molto male e sapevamo che era l'unica scelta fra l'altro la veterinaria che ci seguì era stata molto empatica con noi aveva capiti molto bene seguiti molto bene però il senso di di avere in mano una responsabilità grossa decidendo del fine vita di un altro essere con cui aveva una relazione d'amore è molto difficile ecco quindi d'altro canto ho un'amica veterinaria che mi raccontava che le capita spesso di ricevere persone che vogliono fare l'eutanasia a degli animali che potenzialmente potrebbero vivere ancora anche per periodi relativamente lunghi con delle limitazioni ecco quindi volevo chiedervi un po' vedete magari cercando di essere un po' più brevi giusto per lasciare un po' di spazio alle domande come vivete voi dai vostri punti di vista questo rapporto con l'eutanasia e se avete qualche immagino che le persone che sono qua siano interessate a questo tema qualche consiglio da darci molti li trovate peraltro in realtà nel libro scritti molto bene ma intanto giusto per familiarizzarci grazie sì sarò brevissima perché credo che Franco abbia molte cose interessanti da raccontare stiamo parlando quindi già dell'elaborazione del lutto è importante sapere che l'elaborazione del lutto inizia nel momento in cui ci viene detto che non c'è più niente da fare quindi la comunicazione cosiddetta di una diagnosi in fausta è molto importante il nostro lavoro è diviso in tre parti per tutti gli interlocutori c'è una parte dedicata al pet parent quindi all'animale umano una parte dedicata all'animale e una parte dedicata ai veterinari con cui noi lavoriamo appunto da vent'anni facendo formazione quindi quello già può contribuire a mitigare il senso di colpa che è spessissimo presente nelle consulenze che facciamo certamente c'è di mezzo il potere ma un buon accompagnamento da parte del veterinario nella scelta del momento di nuovo può essere la seconda cosa che aiuta a diminuire rimane però il potere cioè che potere noi però abbiamo appena detto è responsabilità quindi se siamo nel campo dell'amore così come quando prendiamo decisioni anche difficili relative ai nostri partner o ai nostri figli c'è un momento in cui ci parliamo noi e il nostro animale e ci assumiamo quella responsabilità dico un'ultima cosa non dobbiamo dimenticare sono un analista perdonatemi ma vado sempre alla ricerca dei sensi delle parole che credo anche ci possono aiutare che il termine medicina fa riferimento a Medea Medea era la grande fattucchiera maga che curava farmacon vuol dire cura ma anche veleno e Medea curava con le erbe curava con i veleni ma a volte somministrava la morte cioè la medicina nasce sempre a cavallo di questa di questa funzione e anche il caduceo che è il simbolo della medicina ha appunto questa asta con questi due serpenti che si attorcigliano ci sono molti significati ma uno è anche questo cioè non dobbiamo mai dimenticare che la cura a volte è aiutare a morire è una cura e così dobbiamo ricordare che è grazie Barbara sì diciamo che oggi la medicina veterinaria avendo fatto dei grossi progressi dal punto di vista tecnico scientifico si è un po' snaturata in questo ambito della empatia giustamente se tu dicevi abbiamo avuto una collega che è stata molto empatica e ci ha accompagnato ecco questo è un elemento molto importante quello che può essere di cui lamentiamo oggi un po' il medico quello che era il medico di famiglia anche un po' il veterinario diciamo di famiglia che conosce l'animale da quando nasce oppure o perlomeno da quando è molto giovane e lo accompagna per tutto il percorso in situazioni in cui ci sono delle malattie che sono croniche o che comunque il cui esito è in fausto è responsabilità nostra di cominciare a preparare le persone e anche di aiutarle un po' ad accettare questa situazione è difficile molto difficile e per questo anche adesso cominciano ad essere anche importanti e interessanti quelle che sono le cure palliative che sono delle cure come dice il termine stesso che non vanno ad incidere su quello che è la guarigione dell'animale ma migliorano il benessere in questi ultimi momenti palliative derivano da palio quindi da velo che viene steso sopra per coprire la sofferenza psichica e anche la sofferenza fisica ovviamente e nelle cure palliative sempre di più è importante anche tutto quello che è gli interventi su quello che è il dolore e su quello che è la sofferenza perché sono due situazioni differenti in quanto il dolore è quello che l'animale sente il dolore fisico quello che sicuramente gli crea grossi difficoltà ma che gli fa cambiare anche il suo comportamento che lo mette in una situazione di disagio e di incapacità di svolgere la vita come faceva in precedenza e quindi ha bisogno anche di un supporto dal punto di vista comportamentale quindi è necessario proprio creare un'equipe che possa permetterti di supportare l'animale anche accompagnandolo magari a non arrivare a dover fare l'eutanasia ma a passare il cosiddetto ponte dell'arcobaleno da solo che è quello che ritengo sono anch'io ho anch'io degli animali quindi noi che siamo compagni coinquilini proprietari di animali auspicheremmo perché è una cosa più naturale è quello che forse ci allontana un po' di più da quello che è il senso di colpa soprattutto se viene accompagnato in maniera adeguata perché è vero che fare l'eutanasia ti dà un enorme potere ti dà il potere sulla vita e sulla morte ma ti dà un enorme responsabilità io confesso che dopo tanti anni non ce la faccio più a fare l'eutanasia la faccio per motivi soprattutto quando è indispensabile però le situazioni sono diventate molto più complesse e infatti parliamo anche di quello che non è tanto l'obiezione di coscienza perché non è il nostro quello di alcuni colleghi anche un atto di disobbedienza verso una legge ma quello che può essere un'opzione di coscienza cioè nei confronti di un atto che rientra in quello che anche il nostro codice deontologico ci impone e che possiamo anche però rifiutare perché emotivamente non ce la sentiamo perché è una cosa molto pesante io dico sempre a chi parla di eutanasia nelle persone che è un dibattito che non dovrebbe essere fatto sui giornali o in tv ma che richiede un approfondimento notevole perché è facile dire quando vedo uno che sta male autorizzo l'eutanasia ma quelli sono i momenti più semplici e quando uno sta soffrendo io ho avuto un amico con la SLA che oramai neanche più con i computer che utilizzano per comunicare era in grado ma che alla moglie ha fatto capire dopo una crisi respiratoria che lui se anche succedeva un'altra volta di rianimarlo perché non voleva morire per cui è difficile scegliere per un altro e noi abbiamo proprio questo peso di dover scegliere per un altro è semplice farlo su dei dati scientifici e spesso noi ci mascheriamo dietro questo e quindi l'empatia è quello che è ma è difficile dal punto di vista della relazione non parliamo neanche di empatia ma proprio della relazione con un'altra persona che in quel momento sta soffrendo e che spesso non capisce quello che noi gli stiamo dicendo ci vuole giorni per riuscire a farlo capire ma non perché non è in grado di capirlo perché emotivamente non ce la fa ad accettarlo ci sono persone che non vogliono più non vogliono fare l'eutanasia presso il veterinario che ha curato per una vita il suo animale perché non vogliono perdere questo rapporto con un altro animale quindi è una situazione molto molto complessa è un potere che obiettivamente io sarei ben contento di non avere perché è carico di difficoltà però può diventare una situazione diversa qualora noi ci prendiamo anche un pochettino carico di accompagnare e di far capire alle persone io spesso lo dico a quelli che anche qui adesso per noi dobbiamo trovare anche un termine per definire chi accompagna l'animale perché dire cliente diventa un pochettino più dire paziente ovviamente non lo siete non lo siamo e quindi però le persone che accompagnano l'animale spesso io gli dico fate attenzione che questo allungamento così della vita è artificioso legato alla protezione che noi riusciamo a dare agli animali ma se questa situazione privilegiata che noi occidentali viviamo viene meno anche la vita nostra come quella degli animali ritorna a quello che è il normale geneticamente la normale programmazione quindi vivere un gatto vent'anni come accade spesso adesso non è proprio una cosa naturale e quindi preparatevi che un qualsiasi evento quando il gatto ha 12 13 14 anni potrebbe essere un momento in cui bisogna accompagnarlo verso questo ponte dell'arcovaleno e quindi anche questo fa parte di quello che è la cura verso il gruppo familiare oltre che verso l'animale oltre che